Il Rimini inizia un trittico di partite in otto giorni che culminerà domenica prossima con la sfida della capolista Vicenza al Druso di Bolzano, Tana del Sud Tirol, quarta forza del campionato. Colella fa esordire dal primo minuto Ambrosini, Palma si riprende una maglia da titolare dopo il turno di squalifica. Al quarto Casiraghi spalanca la porta Mazzocchi che si devora il vantaggio spedendo incredibilmente alato da due passi. La risposta del Rimini un minuto dopo, Mendicino disponda per Letizia che di destro da dentro l'area spedisce fuori di poco. Ma al settimo i padroni di casa trovano il vantaggio, Tahit è libero di avanzare per vie centrali. Assista Mazzocchi che controlla e calcia, questa volta centrando lo specchio, 1-0. Passano tre minuti ed il prodotto del vivaio dell'Atalanta completa la doppietta personale, scaraventando in rete dall'area piccola un cross di Fabri dall'auto di sinistra deviato di tacco d'Ambrosini. 2-0 e decimo sigillo stagionale per Mazzocchi. Al diciottesimo Ierardi di testa per Petrella che controlla in area. È provvidenziale la chiusura di Ambrosini. Sugli sviluppi del conseguente corner di Casiraghi, Polacca non riesce ad impattare come avrebbe voluto, sfera a fondo campo. Al ventitresimo rimessa con le mani di Ierardi. Casiraghi per Petrella che da due passi scaraventi in rete. Gol annullato per fuorigioco del numero 11 locale. Al venticinquesimo il Rimini accorce le distanze. Letizia ruba palla a destra a Fabri e serve Palma. Pallone per Mendicino anticipato da Polac. L'attaccante appoggia per Letizia che da posizione defilata lascia partire una staffilata sotto la traversa. Secondo gol in due partite per il numero 7 di Colella e gara riaperta. Al trentacinquesimo Casiraghi sfonda ancora a sinistra e serve in area Mazzocchi, la cui conclusione è ribattuta da Sala. Dopo 20 secondi di ripresa il Sud Tirol cala il Tris con Beccaro su cross dall'auto di destra di Tahit. 3 a 1. Al quarto Casiraghi si incune in area in maniera pericolosa. Conclusione ribattuta da Sala, poi Beccaro impatta male fallendo il tapin. Al quattordicesimo Taliento si complica la vita sulla punizione dalla trequarte di Ciliano intervenendo di pugno Polac rimedia. Al quarto d'ora corner di Casiraghi, il colpo di testa di Tahit è oltre alla traversa. Al diciassettesimo il cross di Palma è troppo alto per la testa di Ventola. Al minuto 23 il mio entrato Rover servito da Casiraghi entra in area calcia. La sfera passa tra le gambe di De Vito, Sala in controtempo respinge di piede. Al ventiseiesimo l'arbitro indica il dischetto dopo un corpo a corpo tra Casiraghi e Silvestro. Dagli undici metri lo stesso Casiraghi spiazza Sala con una conclusione centrale. Sud Tirol 4, Rimini 1. Al trentatresimo il tiro di Paramatti è dal limite dell'area a lato. Al trentottesimo scambio tra Casiraghi e Tahit, il tiro del numero 17 di casa è murato dai difensori biancorossi. Al quarantaquattresimo cross di Tahit, Fabri si coordina per la rovesciata. Apprezzabile il gesto anche se la sfera finisce tra le braccia di Sala. Dall'altra parte del campo Erlotti a cercare l'acrobazia ma non aggancia il pallone. Finisce 4-1 per il Sud Tirol, brutta sconfitta per il Rimini che resta ultimo e mercoledì per il recupero della prima di ritorno farà visita a Limolese, penultima insieme al Fano con due punti in più dei biancorossi. Grazie.